Mi sono sempre chiesto sull'STM32, quando ho iniziato a lavorare, come fare per leggere qualcosa dalla seriale. Quindi esisterà qualcosa simile al serial monitor? La risposta è NIE. Abbiamo una seriale, però per vedere i valori sul serial monitor bisogna fare qualche barbatrucco perché il serial monitor non c'è. Iniziamo subito. Vi sarete chiesti se esiste anche sull'STM32 qualcosa di analogo alla serial di Arduino. La risposta è SII e l'abbiamo sempre avuta sotto gli occhi. Vediamo subito come utilizzarla. Creiamo un nuovo progetto. Faccio File, New, STM32Project. Si apre il selettore delle schede. Andiamo su Board Selector. Clicco sulla stellina perché io mi sono salvato la scheda che è una Nucleo L432KC. La seleziono, faccio Next. Scegliamo un nome per il progetto. PST5 underscore, lo chiamo Serial. Facciamo Finish, lasciamo tutto così com'è. Diamo Yes. Attendiamo la configurazione del progetto. Ecco che appare la parte di configurazione dei pin. Qui non dobbiamo fare nulla perché la nostra scheda ha già tutto configurato. Per abilitare i pin e controllare che siano a posto, andiamo sulla parte di connettività. Qui vedete che c'è Usart2 ed è in verde. Usart2 è la porta seriale. È già abilitata e quindi è pronta all'uso. Possiamo andare a vedere le impostazioni. Se andiamo sotto Parameter Setting, qui potete vedere la velocità. A differenza di Arduino, qui la impostiamo in questa sezione di configurazione dove mettiamo già il bode rate e eventualmente le caratteristiche di trasmissione. Fatto questo non dobbiamo fare nient'altro. Compiliamo la parte di configurazione pin cliccando sull'ingranaggio. Aspettiamo che venga modificato il file main.c e a questo punto vediamo dove potrebbe essere questa parte che ci interessa della seriale. La parte della seriale la troviamo configurata qui con questo MXUsart2. Quindi la seriale sarà Usart2. Troviamo anche un riferimento che è questo UART Handle Type Def. HUART2. Quindi dovremmo usare questo oggetto qua per stampare qualcosa sul serial monitor che qua non esiste. Quindi ci servirà un terminale seriale. Mettiamoci nel main. Qui nel main possiamo andare a inserire il nostro codice. Per scrivere si usa la funzione, mi metto sempre qui sotto, tra il begin e l'end. Useremo al underscore UART underscore transmit, aperta e chiusa, punto e virgola. Qui che cosa daremo? Ovviamente un riferimento a UART, quindi e commerciale UART2. Poi virgola. Dobbiamo dare il messaggio nella stringa, la lunghezza della stringa e quanto tempo aspettare eventualmente il timeout. Come definiamo la stringa? È un array di caratteri. Solitamente posso mettermi per esempio, potremmo definirla qua, private user code. Creiamo un array di caratteri, lo chiamo MSG e diciamo che questo è lungo, per esempio 20. Andiamo qui sotto, quando voglio utilizzarlo, ma intanto devo copiargli dentro qualcosa. Quindi faremo strcpi, dentro il nostro MSG andremo a copiare un contenuto, per esempio gli metto hello world, punto esclamativo. Poi lo passeremo alla UART, per passarlo al nostro HAL UART daremo AND UART, poi passiamo a MSG, però il tipo interno è UINT8, che è sempre un signed int di 8, alla fine è sempre un byte. Quindi facciamo un cast, un INT8 underscore T e un puntatore, quindi passiamo l'indirizzo. Poi gli passiamo STR LEN DMSG, modo che calcola la lunghezza della stringa in automatico, e poi gli diciamo quanto aspettare. C'è una costante HAL MAX DELAY, che dice di aspettare il massimo tempo prima di andare in timeout. Aggiungiamo un DELAY per evitare di trasmettere troppe informazioni, con AL DELAY mettiamo un secondo. Io trasmetto una stringa fissa, se volete potete usare anche altri metodi, come per esempio SPRINTF o cose del genere, per andare a comporre il testo. Proviamo a compilare tutto, cliccando sul martello. Non ci sono errori, solo qualche warning. Facciamo RUN, andiamo su Debugger, scegliamo CityLink SN, facciamo Scan, nel caso ci serva fare il debug, diamo OK. A questo punto partirà, purtroppo nell'ambiente qui di sviluppo non ho un serial monitor. Dovemo usare qualcosa di esterno. Io ho aperto qua un Arduino. Se vado sotto Tools, con la scheda collegata, qui abbiamo l'hard, collegato non c'è nulla, semplicemente la scheda collegata di USB. Quindi con la scheda collegata, se vado qui sotto Tools, dovrei trovare la porta e dovrebbe essere questa. Voi potreste avere una COM di qualche tipo. La seleziono, apro il serial monitor, vedete la velocità è 115.2 ed ecco che stampa Hello World. Tutto di seguito perché non abbiamo messo l'accapo. Quindi possiamo eventualmente correggere, qui aggiungendo uno slash n, in modo da andare a capo, possiamo ricaricare per vedere se funziona. Vediamo se ricompila anche, dovrebbe averlo anche ricompilato. Se vado qua, dovrebbe andare ora a capo. Invece, volendo provare a usare una variabile per fare un conteggio, ci mettiamo qui, sempre in una zona userCodeBeginEnd, li metto in mezzo, faccio uint16 underscore t n uguale 0. Poi qua, invece che l'hello world, lo commento, faremo n più più, incremento la variabile n, poi uso s printf per andare a comporre un template. Quindi qui prenderemo msg, virgola, il template, mettiamo n due punti, metto per cento d, mettiamo slash n per andare a capo e gli passo n. Bene, proviamo a compilare e caricare, vediamo se funziona. Dovremmo vedere il conteggio che cresce. Ecco qua i numeri in sequenza. Come avete visto, abbiamo dovuto chiedere aiuto ad Arduino, quindi usare il serial monitor di Arduino, potete usare un qualsiasi altro terminale seriale. Bene, spero sia stato interessante, sicuramente qualcosa di utile da affiancare al debug per dare informazioni o anche riceverle. Per oggi è tutto, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo presto, ciao!